Sono molto felice di essere qui oggi con voi a condividere il progetto di questa stagione. Come ha anticipato l'assessora Bettin abbiamo avuto l'occasione di un primo confronto e mi sono trovata molto allineata con l'idea che mi sembra anche lei abbia di teatro. Alla base di tutto c'è sempre il fatto che in questi anni la linea che ho cercato di dare al Teatro Manzoni è quella di andare nella direzione di un teatro che sia prima di tutto bene culturale. Quindi un teatro che esca dalle logiche di commercio e di consumo ma che sia considerato ai pari di museo, uno spazio culturale. Quindi anche l'oggetto spettacolo che andiamo a proporre lo cerco sempre in quella direzione. Ma la difficoltà o comunque la sfida che mi trovo sempre di fronte è legata al fatto che sono consapevole che il pubblico del Teatro Manzoni è un pubblico ampio, variegato, c'è una polifonia di gusti. Quindi nella composizione devo sempre tenere presente, devo sempre giocare di equilibrismo per cercare di proporre progetti che abbiano la caratteristica di essere spettacoli che non sono puro intrattenimento, pura evasione, ma sono spettacoli, come diceva giustamente l'assessora, con un livello di linguaggio, con un livello artistico, con un livello culturale alto che sono spettacoli che nascono, che prima di essere spettacoli sono dei progetti artistici e culturali di un regista, di un artista, di una compagnia che sta sperimentando, che sta facendo un percorso, ma nello stesso tempo stare attenti che possano cercare spettacoli, quegli spettacoli che possono avere più livelli di lettura per cui stando attenti anche a provare spettacoli che non facciano una ricerca troppo autoreferenziale che quindi possano essere lontani dal pubblico, che invece noi vogliamo accompagnare in un percorso. Quello che dico sempre è che io non considero tanto di avere a che fare con degli spettatori, con un pubblico, con un audience, ma con una comunità di persone e il teatro deve avere oltre alla funzione culturale, che è la prima ovviamente, ma è un luogo veramente di resilienza, di resistenza civile, dove le persone in modo rituale si incontrano e quindi bisogna che offriamo loro, a quelli che lo desiderano, gli spazi e i progetti anche per chi magari vuole nel teatro trovare dei momenti o delle occasioni per trovare risposta alla propria inquietudine, non solo culturale, ma anche umana proprio. Detto questo, la stagione naturalmente ha un suo format, che è quello di otto spettacoli in abbonamento e che vedrete in cui ho cercato in tutti di avere questo doppio canale. Cominciamo con il delitto di via dell'Orsina. Vi racconto brevemente la trama.